Parliamo di Roller Team Kronos 279M che avevo già visto alla fiera di Parma è una soluzione per la famiglia molto numerosa perché puoi aggiungere un letto nel garage al suo interno troviamo la classica dinette per 4 persone poi abbiamo un sedile che ruota quindi gira, classica mansarda con sicuramente una finestra pensili da un lato e dall'altro vano a televisione, classico truma combi poi avremo la cucina con i tre fuochi il primo letto che è abbastanza grande per dire per essere su questi mezzi è abbastanza grande, ci possono dormire in due tranquillamente e poi come dicevamo, sotto puoi aggiungere un altro letto non ultimo, il bagno non ultimo, è un altro letto